Nel campionato di prima categoria si è giocata la terza giornata di ritorno, andiamo a vedere cosa è successo per le squadre agrigentine. Nel girone A continua a mietere successi la capolista Sciacca che mantiene quattro punti di vantaggio sul Città di Cinesi che secondo. La squadra di Vincenzo Piazza ha vinto per 2-0 in casa contro il Gibellina. Il Real Membi invece ha ceduto pesantemente 6-2 sul campo del Valderice. Nel girone G successo del Gemini per 4-2 sul Branciforti, successo esterno anche per il Ravanusa che ha vinto 1-0 a Nicosia. Sconvitta per 2-1 l'Angelo Culfaro Raffadale di Gaetano Longo sul campo della capolista Armerina. E' finita invece in parità 1-1 il derby tra il Raffadali, ex Atletica Aragona ed l'Empedoclina. A passare per primi in vantaggio sono stati i ragazzi di Angelo Mercante con Lopresti. Il pareggio per i padroni di casa è arrivato nella parte finale del match con un calcio di rigore trasformato da Greco Ferlisi. L'Empedoclina regimina per avere colpito una attraverso e un balo con Giuffrida nello stesso tiro. E alla fine Ernesto Lopresti ha mancato per un soffio il gol del 2-1 ma è stato bravo il portiere di casa Mazzola a intercettare il pallonetto e a mandarlo in angolo. Salemi, una partita molto combattuta? Penso che alla fine il risultato ci sia tutto o no? Sì, certo. Di fronte noi avevamo una grande squadra. Una squadra che sulla carta non è una squadra di prima categoria. Potrebbe fare altre categorie. Noi dal nostro conto abbiamo fatto la nostra partita. Ci siamo difesi, abbiamo attaccati. Un punto ci sta bene di fronte a una corazzata che fino all'ultimo lotterà per vincere il campionato. Capitano dell'Empedoclina, finita 1-1 il derby con l'Atletica Aragona Raffadali. Cosa puoi dire su questa partita? Intanto faccio i complimenti a tutta la squadra. Veramente siamo venuti qua in un gambo ostico. L'Atletica Aragona, devo ricordare, ha vinto con la Master Pro in casa, ha dato filo da torcere a tutti nel giro del ritorno. Siamo molto rammaricati per come abbiamo pareggiato onestamente. Non ricordo di aver subito tiri in borta. Abbiamo fatto veramente una grande partita. Abbiamo preso un palo con Giuffrida. Al 94esimo, un'occasione a tu per tu con Lopressi. Abbiamo sbagliato. Insomma, siamo molto rammaricati. Però siamo venuti qua, abbiamo pareggiato. Cerchiamo di prendere coraggio, diamo continuità ai risultati e ci prepariamo per domenica e abbiamo una gara molto importante. Grazie a tutti.